Ben ritrovati, eccoci qui fra la prima e il secondo tempo. Prima di commentare la partita raddrizziamo una notizia che riguarda il ricorso al Consiglio di Sicurezza di Garanzia del CONI 19 aprile alle 14.30, questa è la data in cui il Consiglio si riunirà avverso ricorso del club bianconero contro la sentenza della Corte di Appello della FIGC. Ora la partita, rigore col brivido, Vlaovic che si sblocca, Vlaovic a cui annullano una rete, però devo dire che l'avevo detto a Top Planet, ci ho azzeccato ma non l'ho fatto apposta. Ezio, è stato un buon profeta. Juve che mi sembra positiva, partita in discesa ora, no? Sì, partita in discesa, due gol di vantaggio considerando quello dell'andata, un uomo in più, ci sono tutti i prodromi per arrotonnare il punteggio anche nella seconda parte di gara, partita più di lotta che di governo tra due squadre che costruiscono più in forza di un certo tipo di intensità che non di geometrie, chiaramente meglio la Juve, vantaggio molto meritato, io sono contento di non aver visto una squadra remissiva e eccessivamente orientata alla corsa relatività. L'adrenalina di Allegri questa, magari, no? Ne ha messo un po' forse nel stimolare questo tipo di gioco. Sì, guarda, è tutto merito del Demiurgo, come sempre. Buono Gatti, no? Mi sembra. Molto buona, molto buona la partita di Gatti, buona la partita di, buona la partita di Ravio, ma non ci sono, non ci sono bocciati alla fine di questo primo tempo, l'ode di merito a Scesni. Sì, assolutamente, è una paratona sulla... Che poteva metterci in crisi quel gol lì, eh? Poteva, insomma, indirizzare la partita in un altro modo, però, insomma, Scesni è anche lì apposta. Esatto, ricordate la notizia con cui abbiamo aperto, 14.30, 19 aprile, discussione del Consiglio di Garanzia del Corri sul ricorso di Juventus. Ci vediamo dopo. E dopo. A UG!